Terzo pari casalingo, quello racimolato nell'anticipo di campionato dal Catanzaro di Mister Brevi contro Lascoli. Una buona prova quella dei giallorussi che hanno sfiorato più volte il gol del vantaggio. Ma è finito con un pari il match che si è svolto alla presenza di circa 5.000 supporters. Il gol di Falzarano al sesto del primo tempo è impensierito Brevi che è ritornato però a respirare con il pareggio regalato dalla rete messa a segno al diciannovesimo della prima frazione di gioco da Benedetti. Il primo pari esterno, quello ottenuto al ceravolo dall'Ascoli che in trasferta aveva contato fino ad ora una sconfitta e due vittorie. Resta imbattuto invece il Catanzaro che si è distinto per un'ottima capacità di reazione contro un avversario che ha mostrato grande carattere subendo nel primo tempo la furia giallorossa ma riuscendo nel secondo a contenere i padroni di casa. La classifica provvisoria trattandosi di un anticipo porta dunque i ragazzi di Mister Brevi al quinto posto in classifica e con 13 punti. Grazie. 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 Grazie.